Siamo a San Mignato e quando siamo a San Mignato che troviamo che va inquadrato così perché è talmente alto che, capito? Ciao a tutti! Allora qui abbiamo Marco Bracci che è stato, che è stato? Che è stato? Che è stato? Nazionale di? Eh, fa lavoro, fa lavoro. Ascolta, questo che è un filmatino che va anche sul Tirreno, perché sai, allora è importante. Allora, ci accogli con la pioggia. Ci accogli con la pioggia ma ti sei dato un po' il budismo. Un po' il budismo. Sì, sì, volentieri, volentieri, soprattutto per trovare gli amici. Per trovare gli amici e quindi con tanto di moglie anche lui questa mattina qui accogli. Oggi che distanza fai? 12 km. 12 km, vabbè. Noi facciamo un pochettino più del doppio. Eh, vabbè. Però vabbè, noi, vabbè. Però noi non sappiamo giocare a pallavolo, questa è la differenza. L'ho fatto di frequento. Vabbè, ciao, buona corsa. Ciao, anche a voi. L'eleganza è anche fatta così. Sono le gambe, sono le gambe. Ciao. Ciao le gambe, ragazzi. Sembra il gallaccio di Riglione o delle gambe lì. Bravo. Questi sono i nostri paesaggi. Sì, eccoli qua. Vai, vi becco tutti poi, eh. Che bellezza, eh. Anche oggi tre trofei. Due o tre mila persone. E in questa splendida natura, vedete, i podisti che lentamente arrivano. Salutate perché vi rendo famosi, eh. Quindi sorridete, certo, ragazzi. Dove si vede? Eh, vi vedete parecchio, vi vedete. Qui abbiamo il famoso Fabio Nicoli, l'uomo del bombolone. Ah, è famoso per il bombolone. Ciao, ciao. Salutate qui, eh. Questa è una telecamera mobile. Sono in moto, come vedete. Guardate la Mimoto come va, oh. Avete visto? Eccoci qua. C'è un po' di nebbia, eh, che piovigina. Ed è così. Questo indica un po' dove andiamo noi. Di là, vai. Vediamo dove vanno questi. Vediamo. No, lì c'è una deviazione. La donna ha girato bene, l'uomo è andata a diritto. Vergogna, ragazzi. È vergogna questa. Vediamo questo. Questo è un grande. Lui è nel dubbio, eh. Lui è nel dubbio. Lui è nel dubbio. Dove vai? A diritto o giri? Allora, devo aspettare qualcuno che conosco. Vieni con me, vai. Vieni con me. Vieni di qua, diamo. Guarda, bellina. È tutta a discesa. La vedete tutta discesa? C'è il poeta. Dov'è il poeta? Laggiù c'è il poeta. Eh? Vabbè che sono... Vediamo, vediamo il poeta dove va. Se va a diritto o gira. Gira sempre. Il poeta gira sempre. Gira sempre. Il poeta gira sempre. Vediamo questi. Ah, vergogna, gente. È vergogna questa. È vergogna. È vergogna. Vedete il terreno com'è. Questi. Qui, passate di qua. Vieni, passa di qui. Ci penso io. Vieni, vieni. Fa vedere come ruzzoli. Ah, capito. Guarda lì, oh. I pattinatori. Non ti fermi più ora, eh. Ora si è a te. Non ti fermi più, te lo dico io. Non ti fermi più, eh. La domenica, tu ti ci vedo, ma adesso le foto. Eh, oggi ti ci vede. Ti vede anche su Fulmino la tua moglie. Quindi c'è la prova che sei venuto. Saluta, vai. Saluta la tua moglie, oh. Come si chiama la tua moglie, oh. Diana, Diana. Diana, ma il nome di un cane, Diana. Oh, se si vorresti la tua moglie, vai il cane, oh. Allora, vorremmo fare un'opera buona. Alla signora, che ha accusato questo... La signora Diana, la signora Diana. Signora, viene a correre la domenica, capito? Non va dalla ganza. Capito, non va dalla ganza. Però io vi dico sempre, prima di tornare a casa, telefona. Telefona. Ma sempre prima di dire, cara, sto arrivando. Sì, dimmi se devo venire piano oppure posso venire veloci, capito? Esattamente. Sentivo un po' di confusione, eh. Eh, lo sapevo. Lo sapevo. Ci si fa più. Come non ci fate più? Il patatino fa un cazzo. Ne va avanti, preoccupare. Giovani, forza. Facciamo un filmino anche a queste bimbe, via. Che vanno sparate. Con un gesto atletico. Gesto atletico non indifferente, eh. E anche questa è andata. Questa ragazza qui. Questa ragazza? Questa ragazza qui. Noi giovani. Voi giovani? Voi sì che siete giovani, mica noi, eh. Comunque siamo arrivati anche oggi. Oggi abbiamo fatto prima perché non ci hanno smontato l'arco. No. Quindi stiamo migliorando. Non c'è che per smontarlo. 23 chilometri esattamente, anzi 22,970.